Buonasera, benvenuti ad Angustibus, un programma che è dato dai latinisti. Siamo a Bologna, al bisturantità non è una birra messina, è un radelero della casa, quindi il mio limone, attila l'orlo, neanche trasportato, adesso lo assaggerò per voi. Sal di limone, bella tosta, tre gumi in meccanica, quindi devo sciogliere anche se avanza e dopo lo assaggero anche questo. A dopo! Medaglioni. Qui abbiamo delle ottime polpette vegetariane. Ecco il partito. Qua? Ecco qua! Sì, ma è quello, è quello. Vai! Molto bello quello. Sì. Non riesco a chiedere qualcosa, ragazzi. Ma dai, ripetite, c'è l'olio. Sempre c'è l'olio a faticare. Sì, ma dai, ripetite, c'è l'olio. Oggi, guardiamo la salsa perché non mandi la salsa, almeno. Il vino, la birra, il chardonnay, grazie di tutti i soldi.